Questo è l'esperimento che darà un spazio per, sai in sopra che vuol dire che voi fate un... Allora, dentro questo bidone succederanno cose miracolose, c'è una materia ostica interna. Che vuol dire la particella? Potrebbe essere come scoprire l'elettricità. Ecco, perché come scoprire l'elettricità? Perché sappiamo che c'è, non sappiamo cosa serve. Siamo come i greci quando strofinava la bacchetta d'ambra sul gatto, no? Poi, 1500 anni dopo, 1800 anni dopo, qualcuno ha iniziato a studiarla in profondità senza sapere cosa serve. Cioè, noi siamo nella fase in cui sappiamo che esiste. Cioè, tutti siamo che esiste. Il massimo di scoperta è stata fatta dagli americani un anno fa, ho capito bene? Che hanno detto noi arriviamo fino a qui. Prima eravamo primi noi. Gli americani ci hanno superato, hanno spostato il limite un po' più. Se noi adesso vi spostiamo il limite o addirittura facciamo la scoperta.